Oggi ne avremo ben due con due pacchetti diversi e uno è Pokémon Air Gold Soul Silver e questo qua ha dieci carte e mentre l'altro avremo Pokémon X Crystal Guardians come avevo già fatto soltanto che stavolta sono gli inglesi ok, cominciamo con l'apertura di questo pacchetto vedrete è un'illuminazione diversa perché l'ho fatta con interventi diversi della giornata tipo questa l'ho fatta di sera invece l'altra l'ho fatta prima ok eccolo qua il pacchetto molto bello quindi apriamolo subito non lo rompo perché l'ho tenuto oh no l'ho tenuto in tutti quelli che avevo bene ok vediamo subito che troviamo abbiamo Jigglypuff Ladybug Sandriu Totodile Koffing Parsect Collezionista di Pokémon Miltank Fraligator bellissima dire che questa qua è veramente bella e Raichu anche lui è come Fraligator ovviamente sono brillanti perché appena imparerò i nomi tecnici ve lo dirò allora ragazzi adesso passerei invece all'altra apertura a pacchetto quindi seguite tutto il video ciao ciao ragazzi qui è Porgon ZW che vi parla benvenuti in un'altra apertura a pacchetto oggi abbiamo un altro X Crystal Guardians 9 additional game card cioè 9 carte questa volta abbiamo come immaginati sfondo un Charizard ma l'unico problema è che è in inglese quindi le carte saranno ovviamente in inglese ma cerchiamo di capire chi troveremo qui dentro come di un solito sono riuscito ad aprire già il pacchetto per poter far con voi in diretta per vedere che carte trovo ok cominciamo subito abbiamo un Seedot Aspetta Seedot Suspect Marsdomp Bulbasaur Ex Crystal Guardians quindi Ex Guardian dei Cristalli ed è anche brillantosa Cacnia Torchic Kingler carino sia di tipo fuoco che di tipo acciaio guarda che bello Crappy e Meditite allora ragazzi un'altra apertura a pacchetto sponsorizzata al mio blog è finita spero che vi sia piaciuta votate commentate iscriveteli e seguitemi soprattutto sui miei blog e rivederci un'altra apertura a pacchetto ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti